chirurgia oncologica il sistema da vinci come opzione di trattamento ai giorni d'oggi credo che chi non ha un robot sia ormai fuori mercato la chirurgia robotica ha una capacità di dissezione a tutta una serie di opzioni che rendono il gesto chirurgico estremamente efficace ed estremamente sicuro oltre che estremamente dedicato all'insegnamento la chirurgia da vinci e le sue prospettive future oggi il problema maggiore è la chirurgia del cancro ci sono sempre nuove opzioni che sono la chirurgia robotica la radioterapia e le varie forme di chemioterapia gli oncologi e i radioterapisti oggi ci chiedono interventi sempre più mirati e sempre più conservativi ad esempio nel fegato ormai togliamo numerose metastasi fino a 20 25 in più di un intervento quindi essere conservativi essere capaci di legare solo i vasi sanguigni che portano il sangue laddove dobbiamo togliere il tessuto nobile è un'opzione estremamente utile consente al paziente di essere operato più volte operarsi con il da vinci significa operarsi con il da vinci significa andare incontro a un intervento oncologicamente più preciso più sicuro la sicurezza è uno degli argomenti cardine nella chirurgia robotica il chirurgo è in una posizione estremamente ergonomica riposato seduto tutti gli errori legati alla fatica vengono meno grazie a questa macchina che consente al chirurgo di operare in condizioni ottimali e per il paziente per il paziente diciamo due i grandi risultati il primo di avere un risultato oncologicamente corretto e ripetibile da vari chirurghi il secondo di avere una chirurgia sicura perché da vinci consente una dissezione estremamente raffinata estremamente precisa e d'altro lato consente al chirurgo di ridurre i propri errori legati alla fatica